Ancora in aumento i dati relativi ai casi di positività al covid-19 in Puglia, sempre più giovani. I sindaci dei comuni colpiti dagli aumenti invitano alla prudenza nel servizio i dati aggiornati in Puglia. La curva epidemiologica in Puglia registra un'inattesa flessione dovuta forse al numero minore di tamponi processati rispetto ai giorni scorsi. 38 dei 1974 test esaminati per accertare l'infezione da coronavirus hanno dato esito positivo. 28 sono stati rilevati in provincia di Bari, che resta la zona più colpita. Di questi, 15 sono contatti stretti di casi già tracciati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL. Tre sono relativi a persone rientrate dalla Sardegna, nove in fase di approfondimento e un caso è stato riscontrato nel corso di un'attività di triage del pronto soccorso. Nel bollettino diffuso dalla Task Force regionale, in cui non sono stati segnalati decessi, gli altri nuovi contagiati sono così distribuiti. Due nella provincia di Barletta, Andrea Trani, su cui sono in corso indagini per accertare l'origine del contagio. Uno in provincia di Lecce, relativo a un residente in provincia sottoposto a tampone nel pronto soccorso in cui era arrivato per altre patologie. E sei casi sono attribuiti al Foggiano. Riguardano due cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale e quattro sono contatti di casi già individuati e tracciati dal servizio di igiene aziendale. I positivi accertati salgono così a 844, di cui 123 negli ospedali della regione. Tra i contagiati c'è anche una donna positiva che ha partorito all'alba di ieri nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santissima annunziata di Taranto e non inserito nel bollettino. E' la prima volta che succede per la struttura ospedaliera Tarantina. Il primo tampone effettuato sul bambino ha dato esito negativo ma bisognerà attendere il secondo test per averne la certezza. La donna è arrivata all'alba di domenica in ospedale ed è stata subito portata nell'area di isolamento per il pre-triage dove è stata rilevata la positività al Covid. La partoriente, asintomatica, ha raggiunto la sala parto attraverso un percorso dedicato. Il neonato, maschietto, pesa 3,3 kg ed è in buone condizioni cliniche come la mamma in cui il postpartum procede regolarmente. La situazione instabile dei contagi però ha spinto molti sindaci a chiedere alla popolazione attenzione. Ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, il sindaco Davide Carlucci invita alla prudenza dopo l'accertamento di 10 casi positivi in città di cui la metà ha solo 19 anni. Nessuno è ricoverato in ospedale ma il primo cittadino annuncia controlli visto che il Paese sta celebrando la festa patronale. Non sono escluse sanzioni per chi non rispetta le norme basilari anticontagio. A Crispiano, in provincia di Taranto, si è registrato ieri un caso di positività al coronavirus e il primo in tre mesi si tratta di una persona sintomatica in buone condizioni. Sette invece sono in sorveglianza e isolamento fiduciari mentre una persona è risultata negativa. I casi sono relativi a rientri da un viaggio fuori dalla Puglia. Salgono a nove invece i positivi registrati nel comune Salentino di Martano che fino a un paio di settimane fa era tra i paesi virtuosi perché ha zero contagi dall'inizio dell'epidemia a oggi. A comunicare la crescita degli infettati dal covid del sindaco Fabio Tarantino. I primi otto, dice in isolamento da due settimane, procedono spediti verso la negativizzazione ma continua la mappatura e la ricostruzione di tutte le reti di contatto delle persone colpite dal coronavirus nelle scorse settimane. Il primo cittadino dice che i tamponi fatti sono numerosi e stanno dando esito negativo. La situazione è sotto controllo, conclude, invitando al rispetto delle regole anticontagio.